Allora per iniziare con il video di oggi vi ricordo che sui siti pampling ci sono i saldi con maglietta a partire da 5 euro e 99 centesimi a salire ce ne sono veramente tantissime, molto molto carine, in sua impressione vi metto alcune di quelle più interessanti e se al vostro acquisto aggiungete un paio di calze alla vostra scelta e utilizzate il codice VILASZLO le calze non le pagate, quindi se vi interessa sapete cosa fare, ora però a bando alle ciance iniziamo subito con il video di oggi Sì va Allora oggi voglio parlare di un film che ho visto in anteprima qualche giorno fa a Milano, in sala c'erano anche il regista e un paio di membri del cast ed ero molto curioso di vederlo perché il primo film di questo regista mi era piaciuto tantissimo quindi ero curioso di vedere come sarebbe stata questa seconda opera mi riferisco ad un film del 2023 per la regia di Pietro Castellitto ed è Enea Allora il film è stato presentato allo scorso Festival di Venezia e ne ho sentito parlare in maniera un po' discordante però prima di farmi anche solo mezza idea ho voluto guardarlo perché quando si parla di Pietro Castellitto noto che tante persone prendono un po' le distanze perché effettivamente i Predatori, che era il suo primo film, era un pochino particolare Pietro Castellitto aveva dimostrato di avere uno stile che può sembrare un po' pomposo ma che secondo me viene spesso frainteso ovvio però un film solo non ci dà molto modo di capire un po' come la pensi un regista, quale sia il suo stile ti puoi fare un'idea per quel film lì per capire se il regista mantiene poi lo stesso stile anche per i film successivi devono esserci dei film successivi ovviamente quindi con questo Enea secondo me si possono un pochino tirare le somme di chi sia Pietro Castellitto come regista e per quanto mi riguarda è un cazzo di genio nel senso che io guardando Enea mi sono reso conto che sì lo stile è sempre quello dei Predatori però c'è anche di più, io lo dico subito, i Predatori per me è stato un ottimo film era diverso da tutti i film italiani che avessi visto fino a quel momento nella regia, nell'umorismo, proprio nella tipologia di film di cui si sta parlando però questo ha qualcosa in più, ha una marcia in più anche perché è un film che vuole parlarti di borghesia ti vuole parlare di criminalità, ti vuole parlare di umanità in generale e Pietro Castellitto ha scritto una sceneggiatura che per quanto mi riguarda è eccezionale perché è un film comico ma non, come potreste pensare, non è la classica commedia all'italiana di oggigiorno è qualcosa di completamente differente con questa ironia al vetriolo c'è una dose di black humor molto molto potente che io personalmente ho apprezzato e quindi sono rimasto veramente coinvolto sia dalla narrazione che dai personaggi perché comunque Enea, Valentino, Eva, i due genitori sono tutti personaggi interessantissimi francamente ho riso tanto, mi sono emozionato tanto, ho apprezzato moltissimo anche il finale che mi ha raggelato il sangue nelle vene, devo essere sincero perché mi aspettavo che le cose andassero in un certo modo ma non mi aspettavo quel tipo di messa in scena Pietro Castellitto gioca tanto con lo spettatore e lo mette di fronte a qualcosa che non si riesce a riconoscere fin da subito tra l'altro io mi stupisco sempre quando si supera un certo limite che in Italia non si supera mai mi ero sorpreso con Comandante, con Pierfrancesco Favino dove a un certo punto il protagonista tira giù un bestemmione sentitissimo anche perché stiamo parlando di un capitano, un comandante di un sottomarino veneto nella seconda guerra mondiale e succede una cosa a un certo punto per cui non sarebbe stato proprio credibile se non avesse bestemmiato peraltro personaggio veneto quindi insomma anzi forse è irrealistico che ne abbia tirato una sola ma al di là di questo io quando ci sono le bestemmie nei film ed è rarissimo, veramente rarissimo rimango sempre un attimo congelato e qui c'è una che peraltro mi ha spaccato da ridere perché arriva inaspettata nel momento giusto cioè quando un regista riesce a farti ridere con una bestemmia che però non è gratuita vuol dire che sa quello che sta facendo secondo me e a volte mi chiedo ma com'è possibile che glielo permettano perché in Italia la bestemmia è qualcosa che proprio non è tollerata da nessuna parte figuriamoci in un film eppure eccola lì e non è secondo me messa lì solo per mostrare che si può e basta è lì per un motivo ben preciso perché narrativamente parlando quando l'ho sentito ho pensato cioè non è gratuita non è buttata lì è lì perché in quel momento ci stava perché crea un contrasto per chi la sta dicendo per il motivo per cui la sta dicendo insomma mi ha divertito molto quel momento e in generale ci sono delle cose che sono eccezionali ad esempio c'è un momento in cui viene detta una certa cosa e io sapevo al 100% che quella cosa sarebbe tornata in qualche modo non sapevo come non sapevo quando quando però avviene è talmente perfetto il momento che io ero in lacrime e francamente un film con un umorismo del genere non è affatto facile perché è un umorismo abbastanza particolare non è immediato non è un umorismo che si può trovare in qualunque film ma peraltro non è l'umorismo della classica commedia perché è un film comunque molto profondo non è un film che vuole solo farti ridere in realtà le risate sono solo uno sfondo di qualcosa di molto più profondo di molto più ricercato perché il protagonista che è Pietro Castellito stesso interpreta questo ragazzo che di fatto non ha mai avuto reali difficoltà nella vita nel crescere nel farsi un nome è un personaggio che peraltro si muove in un ambiente che non è definito fin da subito all'inizio tu pensi che questo film ti parli di gente ricca e basta che ti parli di alta borghesia romana e invece ti vuole parlare come ho detto poco fa di criminalità ma lo fa in una maniera diversa dal solito non lo posso definire un normale gangster movie perché sembra quasi che la componente riguardante la criminalità sia qualcosa di secondario ma mano a mano che il film procede diventa sempre più importante fino ad arrivare ad alcune scene che sono tipiche dei gangster movie all'italiana ma che sembrano quasi rompere con una cattiveria insensata per il tono che ha avuto il film fino a quel momento come se ti proponessero questa bolla dorata che tu pensi che nulla può penetrare fino a che non viene scoppiata dalla realtà una realtà crudissima, violenta anche secondo me di impatto da un punto di vista meramente estetico per cui io quando ho visto questa cosa ci sono rimasto parecchio anche perché il secondo prima sei lì che ridi per una battuta bizzarra pronunciata da uno dei personaggi il secondo dopo sei lì con la bocca aperta e dici ma che cazzo cosa sta succedendo effettivamente e inizialmente io ero assolutamente affascinato a ciò che stavo guardando ma non capivo dove volesse andare a parare da un certo momento in poi diventa assolutamente chiaro e è una pellicola che ti propone un rapporto continuo tra i vari personaggi quindi gira tutto intorno ad Enea quindi vediamo Enea e l'amico Valentino che sono due personaggi eccezionali Valentino tra l'altro che è interpretato da Giorgio Quarzo Guarascio che è stato bravissimo è un personaggio completamente opposto a Enea Enea è un ragazzo fine educato che cerca sempre di proteggere in qualche modo le persone che gli stanno intorno soprattutto il fratello che peraltro è interpretato dal vero fratello di Pietro Castellitto se non erro un ragazzino che lo porta in palmo di mano lo vede come un eroe, il suo eroe perché ha avuto modo di crearsi un'attività a un ristorante in società con Valentino Valentino invece è un ragazzo molto più cinico sicuramente con tanti problemi palesemente innamorato di Enea il rapporto tra loro due è molto omerotico mai espresso perché è un rapporto di amicizia talmente profonda che secondo me a tratti ti fa pensare che sia andato oltre almeno una volta però non te lo dicono quindi forse la parte di Enea è solo amicizia la parte di Valentino c'è sicuramente un amore mal celato sta di fatto che è un rapporto molto bello i due si vogliono tanto tanto bene però non c'è retorica in questo a mio modesto avviso non è un qualcosa di troppo palese è un qualcosa che si nota tra le righe questo affetto che potrebbe essere qualcosa di più quindi anche questo l'ho apprezzato molto e è una pellicola che ti pone una linea molto sottile che separe bene e male però in maniera diversa da come l'ho visto fare in altri film recenti ad esempio un film in cui era molto difficile distinguere bene e male è stato Adagio di Stefano Sollima però lì era differente perché comunque c'era una situazione di grave pericolo o di due per tre c'erano inseguimenti o morti e ammazzati qui è tutto molto più sfocato se vogliamo perché comunque non è un film a cardiopalma non è un film in cui la componente gangster è predominante nel modo in cui la conosciamo e quindi è tutto molto più difficile da comprendere perché Enea e Valentino non sono cattivi però sai che non fanno qualcosa di buono effettivamente ci sono dei personaggi che sono totalmente positivi Celeste, il padre e la madre sono dei personaggi positivi e infatti c'è una scena sul finale che li riguarda che ti fa capire che loro due sono un po' avulsi da questo contesto sommessamente feroce che ti viene posto sullo schermo cioè proprio l'inquadratura finale a me è piaciuta tantissimo perché rappresenta una fuga totale da una realtà che presto o tardi dovrà raggiungere i personaggi e quindi è difficile un po' capire per alcuni dove stia il bene e dove stia il male soprattutto per i protagonisti perché poi c'è un altro personaggio che è interpretato da Giorgio Montanari che non viene presentato come simpatico o come buono nel senso che tu lo vedi e nell'ottica della rappresentazione estetica che il film ti dà sembra lui il cattivo ma in realtà lui è buono questo è il fatto c'è questo ribaltamento come se il film volesse farti capire che noi nelle realtà spesso volentieri siamo completamente incapaci di distinguere ciò che è bene da ciò che è male perché guardiamo troppo alle apparenze è un film sull'apparenza è un film sull'apparenza e sull'apparire su questa borghesia patinata che ti dà l'idea della felicità ti dà l'idea della bellezza della gioia della perfezione una perfezione che non esiste abbiamo questi ricchi con problemi in famiglia che sembra abbiano tutto sotto controllo in realtà non hanno le cose poi così tanto sotto controllo la madre ha un mestiere fa un mestiere sicuramente invidiabile che però forse non la soddisfa così tanto così come questo padre interpretato da Sergio Castellitto padre di Pietro penso l'ho conosciato un po' tutti grande attore italiano è uno psicologo un psichiatra psicologo comunque un uomo che aiuta le persone pacato una bravissima persona che però anche lui ha i suoi demoni è un film che ti racconta che dietro a quella patina di di perfezione sociale si nascondono esseri umani con tutti i loro problemi come le hanno un sacco di altre persone per cui è una pellicola anche molto simbolica c'è questa cosa dei baci questa sorta di tabù sui baci che io ho apprezzato tantissimo che ritorna poi verso la fine e io la questione dei baci poi quando guarderete il film capirete l'ho interpretata come una sorta di non voler mostrare un'intimità che spesso e volentieri appare come finta come se la finzione che vediamo in scena cioè questa borghesia che dicevo poco fa che non che è finta che non che non rappresenta la realtà fosse già abbastanza finta e che non ci fosse un vero bisogno di mostrarci un'intimità fasulla come se l'intimità fosse sacra e che quindi non andasse mostrata però in realtà è una mia interpretazione perché quando eravamo di Abeltrade lo stesso castellitto non è stato molto chiaro sul perché i baci perché comunque poi il regista che in questo caso anche sceneggiatore può chi sceneggia può avere una sua idea ma magari non in maniera molto chiara ecco magari non vuole spiegare in maniera per appunto approfondita cosa intendesse perché lascia che sia lo spettatore a colmare certi vuoti a volte secondo me si può anche fare mi piace quando viene fatto mi piace essere io a colmare i vuoti e quindi ho dato un po' questa interpretazione perché comunque poi c'è una sorta di risoluzione di questa cosa e c'è anche Benedetta Porcaroli che interpreta Eva questa figura femminile che secondo me è importante e marginale allo stesso tempo mi ha fatto molto piacere vedere questa figura femminile utilizzata in questo modo ma per un motivo molto semplice perché ci si aspetterebbe da un film che ti vuole raccontare una storia ben definita che il personaggio femminile come un personaggio femminile come questo sia messo al centro di tutto che sia importante e lei è sostanzialmente l'interesse romantico di Enea però la loro storia d'amore la vediamo nascere più o meno mancano dei passaggi non ti viene raccontata con dovizia di particolari tempo che i due si mettono insieme da quando lui la nota e subito ci sono dei problemi lei è una figura secondo me importantissima ed è per questo che viene messa un po' al lato perché non è un film convenzionale non è una pellicola che vuole raccontarti le cose come lo fanno e tutte le altre è un film con una narrazione che è infarcita di dialoghi molto profondi che hanno però un fondo di bizzarria ed è per questo che io dico che tanto i predatori quanto questo rischiano di essere fraintesi perché ci sono tanti virtuosismi dal punto di vista registrico regia che io ho apprezzato veramente tantissimo con inquadrature che si ribaltano vedute dall'alto movimenti di macchina molto lenti e avvolgenti anche Castellito muove tanto la macchina della presa di solito quando si muove la macchina della presa in maniera così virtuosa sembra quasi che uno voglia dire guarda cosa sto facendo osserva quanto sono bravo stessa cosa per la scrittura hai visto che dialogo ti ho scritto è pazzesco però io credo che sia semplicemente lo stile di Pietro Castellito lo vedete nelle interviste poi io l'ho visto anche dal vivo mi sembra una persona e lo dico nella maniera più positiva possibile bizzarra e questo è un film bizzarro cioè la regia di Pietro Castellito così come la sua scrittura riflettono perfettamente ciò che Pietro Castellito fa trasparire di sé una persona molto colta bizzarrissima un po' narcisista forse anche ma bisogna vedere quanto lo sia davvero e tutto questo lo ritroviamo nella scrittura e nella regia di questo film di questo film come anche dei predatori i predatori aveva dei dialoghi che erano molto irreali il momento in cui Cassini nei predatori parla di quello che fece al tizio ebreo che era andato a farsi operare da lui è agghiacciante però è un qualcosa che a distanza di anni mi è rimasta dentro io non so se avete visto i predatori se non avete visto fatelo questa pomposità presunta io la trovo invece l'espressione di un ego molto ingombrante che però ha sicuramente qualcosa da offrire cioè Castellitto si mette molto in gioco ho notato quando dirige un film e lo scrive mette tanto di sé con tutto quello che può esserci di positivo e tutto quello che può esserci di negativo per me la pomposità è altra perché poi mi rimane della sostanza quando un film è pomposo quando un film se la crede noti che non c'è una reale profondità non c'è un reale messaggio che vuole essere mandato non c'è la sostanza manca è tutta forma ecco qui c'è tantissima forma non si può negare ma cazzo se c'è anche la sostanza questo è un altro film che mi rimarrà impresso nella mente ci sono delle scene in questo Enea che a mio modesto avviso sono veramente di grandissimo impatto visivo oppure ma anche solo di impatto a livello narrativo io ho apprezzato perché poi è un film che ti vuole un po' parlare di quanto la vita a volte possa essere rapida di come la vita possa svanire anche in un soffio perché ti presenta una realtà talmente caduce talmente cristallizzata se vogliamo che è ovvio che a un certo punto arriverà qualcosa a spazzarla via è questa l'impressione che ti dà quello che ti racconta questo Enea film che prende il nome da un protagonista che è difficile da identificare non posso dire che non mi stia simpatico perché mi sta simpatico però fa e dice delle cose che sono un po' magari strane ecco cioè è un personaggio bizzarro e non è un personaggio facile da comprendere non è un personaggio facile da comprendere oltretutto c'è un momento in cui Eva lo definisce e secondo me è perfetto cioè dà una definizione perfetta di quella che è Enea personaggio che io personalmente ho adorato ma tutti i personaggi di questo film mi sono piaciuti vi dico la verità gli ho amati tutti dal primo all'ultimo ci sono delle scene che a mio desto avviso sono sensazionali sotto tutti i punti di vista per cui davvero io consiglio di andare a vederlo poi non è un film privo di difetti come lo dico io come dico sempre non esistono i film perfetti non è un film privo di difetti ad esempio secondo me giro un po' troppo intorno al punto io sarei andato un po' diretto mi sarebbe piaciuto che il film andasse un po' più nella direzione dove volevo andare fin dall'inizio senza metterci così tanto perché ogni tanto avevo l'impressione che stesse prendendo tempo per mostrarmi dei dialoghi sicuramente interessanti ma che non capivo in che modo dovessero andare a mandarmi avanti la narrazione poi ho compreso che in realtà era il modo di Castellitto di raccontare questa realtà di questa di questa criminalità che serpeggia anche negli ambienti dove non penseresti di trovarla per cui è una scelta stilistica che si può apprezzare come no io magari avrei preferito un minimo di asciugamento anche se il film dura un paio d'ore quindi non è che duri 60 ore attenzione dura il giusto ma non è una questione di tempo non è una questione di lunghezza del film è proprio una questione riguardante il ritmo che è costante e a me non è dispiaciuto è un buon ritmo per l'amor di Dio ma ho avuto come l'impressione che forse ci siano state delle lungaggini delle sbrodolatine di quel lego di cui parlavo prima che volendo si potevano evitare e che magari con un minimo di asciugata avrebbero evitato quelle critiche riguardanti la pomposità la pretenziosità del film però io ve lo ripeto per me i film pretenziosi sono altri questo è un film che può sembrare pretenzioso indubbiamente ma non lo è davvero e se pretende è perché sa di poter ottenere è un po' questo secondo me il fulcro del film io ho apprezzato comunque quello che ho visto sinceramente è un film che sicuramente ha dei difetti ma che è anche in grado di regalarti delle grandi emozioni ci sono delle cose che forse rimangono un po' troppo lì come il personaggio del domestico filippino io ho capito perfettamente cosa volevano fare con quel personaggio ma è un po' troppo rapido il discorso che lo riguarda e soprattutto anche un filo ermetico ecco un altro problema del film è che su certi aspetti è troppo ermetico ma ermetico in maniera ecco lì si un po' forse forzata come a voler dire eh questa cosa te la butto lì potrebbe voler dire qualcosa come no con lì forse un po' esagerato ogni tanto ha questi piccoli sfondoni però Pietro Castellito ha il suo secondo film qualche ingenuità gliela perdono anche però c'è da dire che come opera seconda siamo degli alti livelli cioè per me questo è un film realizzato veramente con tutti i crismi e mi è piaciuto davvero tantissimo per cui è assolutamente da guardare per non parlare poi di Valentino e dell'epilogo del suo personaggio che secondo me è fenomenale cioè io quando ho visto il finale ho detto vabbè ma di che cosa stiamo parlando tutto è dalla scena della casa di riposo poi ve ne parlo tra poco fino al finale del personaggio li è veramente d'applausi ho veramente ho veramente apprezzato tanto Giorgio Quarzo Quarzo Guarash è stato fenomenale è stato bravissimo quindi insomma io trovo che Enea sia un film sicuramente particolare magari non di facile comprensione subito è un film che si fa fraintendere tanto ma che poi ti lascia effettivamente qualcosa per cui io ve lo consiglio assolutamente l'ho trovato in sala andate a guardarlo tra l'altro io devo ancora vedere Perfect Days di Wim Wenders perché come al solito porca troia non lo distribuiscono in maniera adeguata e ce l'ho lontanissimo quindi devo trovare il modo magari nel weekend di andare a guardarlo a Milano perché altrimenti non so come fare anche perché mi dicono tutti che è bellissimo quindi lo voglio guardare Enea invece gode di una distribuzione sicuramente più adeguata per cui questo ve lo potete guardare e io vi consiglio non perderlo anche perché non fatevi ingannare la foto che è italiano perché poi dobbiamo finirla con questa cosa che tante persone mi dicono no l'italiano non lo guardo andatevi a vedere i film italiani quando meritano mannaggia al cazzo vi prego non dico di andare a vedere la commediola con De Luigi o il film di Pio Amedeo ma almeno i film quelli che meritano andiamoli a guardare sosteniamo il nostro cinema mannaggia al cazzo cioè a me piacerebbe che si sostenesse il cinema italiano anche perché questo è un film completamente diverso si dice tanto che in Italia non si fa mai niente di diverso però quando i film che ci sono diversi escono li vanno a guardare in 12 ecco andiamo a guardare sto cazzo di Enea dategli una possibilità così poi magari se ne discute perché poi c'è una bella voglia di dire che in Italia non si fa niente di nuovo per forza quando si fa qualcosa di nuovo non lo si caca e non parlo di qualcosa di nuovo come quello che ha fatto la Cortellesi che era super mainstream che quello ci sta ma meno male che la gente è andata a vederlo perché è una cosa diversa dal solito che è stata premiata sarebbe bello se si premiasse non dico quanto quello della Cortellesi perché quello è stato un caso più unico che raro ma se si premiasse anche Enea che è un film che ti dà qualcosa che comunque prova a essere differente cazzo non sarebbe male quindi questo è il mio appello io vi abbraccio vi ringrazio grazie ai seguiti fin qui noi ci vediamo al prossimo muyblog se il film non lo avete ancora visto se invece lo avete già visto e 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 lo specifico gli spoiler iniziano tra 3 2 1 allora innanzitutto io ho apprezzato tantissimo l'introduzione dei personaggi perché comunque ti fanno vedere Enea che va al campo da tennis va al circolo ha il ristorante di sushi è adorato dal fratello più piccolo ti fanno vedere il padre che sta aiutando questo ragazzo che a un certo punto deve raggiungere questa bestemmia che mi ha ucciso veramente perché lui sta parlando con questo bambino ragazzino che parla del fatto che insomma non si sente compreso la scuola per lui è inutile e si sta parlando del sistema scolastico dei voti e il ragazzino dice ma insomma i voti servono solo a limitarci madonna ma come però era talmente sentito poi messo in bocca un ragazzino che non si vede tra l'altro si sente solo la voce che poi torna dopo poi Celeste il padre di Enea legge alla moglie che è sconfortata una lettera di questo ragazzino con problemi mentali che era quello che aveva bestemmiato che si è trasferito e che parla della della sua acquisita capacità di resistere e forse resistere è un po' la chiave che definisce i personaggi di questo film tutti bene o male resistono vivono vite apparentemente perfette ma sono tutti oberati dalla vita stessa la madre di Enea è una conduttrice di un programma in cui si parla di libri molto seguito che però ecco che lei odia lo detesta non lo sopporta Celeste è un uomo che aiuta gli altri ma è pieno di rabbia a un certo punto lui durante questa cena dice io non ho rabbia e invece ce l'ha perché scopriamo che va in questo motel che in realtà ha delle stanze che possono essere sfasciate tu pensi che sia il classico borghesotto che tradisce la moglie in realtà lui non va nel motel a scopare va in questo motel particolare per sfondare le vetrate per sfondare tutto e infatti questa cosa è abbastanza chiara perché ogni tanto i personaggi dicono guarda che hai qualcosa che brilla tra i capelli hai un pezzo di specchio un pezzo di vetro perché sfonda tutto e quindi la questione della capacità di resistere è la chiave del film e c'è anche un altro personaggio che è quello di Giordano che è un personaggio che si contrappone un po' al personaggio di dicembre il tizio interpretato da Montanari questo giornalista di inchiesta pomposissimo fastidiosissimo che però è un buono cioè lui comunque smaschera i criminali in un certo senso ecco Giordano è un criminale ma fa dei discorsi spettacolari quando parla Enea dell'amore dice a un certo punto si invecchia allora devi avere qualcuno vicino hai una ragazza vai a casa baciala facci un figlio fai qualcosa e c'è questa scena bellissima di lui e lo scagnozzo in macchina che parlano della mamma stanno parlando di qualcosa di puro l'amore per una madre e all'improvviso vengono uccisi a colpi di pistola e c'è quest'altra scena che mi è piaciuta un sacco degli stessi ragazzini che hanno appena ammazzato Giordano che vanno per ammazzare Enea uno di loro col casco fa per sparargli ma la pistola si inceppe e Enea non si accorge di nulla questa scena è tutta in piano sequenza è lì che torna una cosa che viene detta all'inizio a un certo punto al circolo Valentino e Enea parlano e Valentino dice abbiamo un problema col ristorante e Enea chiede sì cosa? è il cuoco pare che si inculi i salmoni dice in che senso? mette il cazzo in bocca ai salmoni ma come? quando entra il tizio con la pistola che va in cucina lì vediamo il cuoco che sta effettivamente facendo roba con un salmone quando io ho visto quella cosa sono morto da ridere perché come ho detto nel video io lo sapevo che sarebbe tornata era ovvio che sarebbe ritornata ma non pensavo in quel momento di grande tensione nel momento di maggiore tensione dove un personaggio visto fino a quel momento è stato ammazzato come un cane dove il protagonista ha quasi rischiato di essere ucciso ecco che all'improvviso arriva questa cosa surreale assurda che io ho adorato il surrealismo dell'umorismo di Castellitto a me ammazza perché non è apprezzabile da tutti io me ne rendo perfettamente conto che può sembrare una cosa volgarissima inserire un tizio che si sta scopando un salmone ma allo stesso tempo è geniale proprio perché è una cosa talmente over talmente al di fuori talmente surreale stupida idiota e imbarazzante fuori luogo da diventare geniale cioè tu prendi un qualcosa che è proprio al di là di qualunque sfera del consentito e del normale e lo metti in una scena che non dovrebbe essere spezzata da nulla rendi il tutto talmente grottesco da diventare per l'appunto geniale e io questa cosa l'ho amata l'ho amata perché poi gli eventi precipitano Enea sa che ci sono persone che vogliono farli fuori ma soprattutto sa che loro devono fare fuori o resta dicembre perché questo a un certo punto gli dice guarda che io ho un fascicolo alto così su di voi voi non avete idea e poi sempre dicembre dice questa cosa io divido le persone in due categorie quelli che vogliono rimanere dentro la figa e quelli che vogliono uscire dalla figa ma questa immagine volgare in realtà è molto evocativa cioè dice quelli che vogliono starsene al sicuro che vogliono stare in un luogo caldo accogliente l'origine della vita un qualcosa che ti ti tiene lì un qualcosa un porto sicuro che in cui non ti può succedere nulla e quelli che invece escono dalla figa quelli che vogliono esplorare vedere il mondo osare Enea e Valentino Valentino forse è uno più che rimane nella figa infatti non a caso è lui a mettere fino al resto di dicembre perché prima Enea vorrebbe ammazzarlo e lo vorrebbe far fare al filippino che hanno preso che è uno che è stato condannato per aver ammazzato una vecchietta e a un certo punto lui dice Enea ma tu Nelson tu effettivamente hai ammazzato la vecchietta e lui per tutta risposta prende questa zanzara in mano e la libera fuori dalla finestra come a dire che è una persona che è capace di cose brutte di cose anche delicate e Enea lo aveva mandato a uccidere Oreste dicembre però poi lo ferma perché è Natale sente questo discorso di quello che mi pare sia lo zio sull'importanza del Natale l'importanza del Capitone dello sconfiggere il diavolo si rende conto che assolutamente non doveva fare quello e Valentino dice bravo l'avrei fatto anch'io noi non siamo assassini però poi lui va a casa di posola la madre si mette a cantare questa canzone storpiata sulla droga viene cacciato vestito da re tra l'altro c'è questa scena bellissima prende la madre la mette sul suo aereo privato perché ha preso il brevetto da pilota sta per uccidersi cadendo in mare ma poi cambia idea va su vira e si schianta appositamente sul palazzo dove Oreste dicembre il giornalista sta guardando questo orizzonte lui è all'ultimo piano il ventiquattresimo sovrastando tutto e sta un'ora al giorno lo dice Valentino a guardare quella vastità di Roma come se lui fosse il re di Roma in un certo senso e quindi distrugge la minaccia ma non basta perché ci sono ancora i gangster che vogliono farli fuori e il film si conclude con Enea che sta che si sta sposando con Eva con cui ha dei problemi perché a un certo punto Eva dice tu Enea sei come quei pupazzetti di quella ruota panoramica giocattolo che abbiamo lì col sorrisino sulla bocca e loro vanno avanti tu però non sei felice loro vanno avanti e basta però lei è innamorata di lui e lei è incinta in quel momento e c'è questa scena bellissima sul finale con padre e madre che parlano e che si dichiarano il reciproco amore poi si baciano e mentre stanno parlando dietro vediamo qualcuno che spara in testa Enea e muore sullo sfondo neanche ben messo a fuoco come se non fosse importante come se la cosa più importante fosse questo amore che sopravvive anche alle cose peggiori con i due che finalmente si baciano perché tutti i baci vengono censurati lo schermo si oscura sentiamo anche il bacio di matrimonio tra Enea e Eva e i due mentre si baciano iniziano a sollevarsi nell'aria con questa luce bellissima calda che gli avvolge rimanendo ancora per qualche istante in questa bolla che di lì a poco si scoppierà perché gli hanno appena ammazzato il figlio un finale tragico ma anche bellissimo per quanto mi riguarda quindi è un film sicuramente molto particolare non è certamente una pellicola facile mi rendo perfettamente conto però è una pellicola densa di significato sì sicuramente ogni tanto un po' se la crede per l'amore del cielo ma non come non tanto quanto ho sentito dire in giro sembra quasi che sia il film più pretenzioso del mondo in realtà neanche tanto sì ci sono dei dialoghi un po' in cui magari un po' ti fa capire che voleva arrivarti però non mi ha assolutamente dato fastidio perché sono dialoghi che effettivamente sono pregni di una loro profondità per cui per quanto mi riguarda è una pellicola riuscitissima con tante cose interessanti al suo interno e tanti momenti che mi hanno davvero strappato più di una risata quindi questo è quello che pensavo circa Enea di Pietro Castellito facendo con il sotto cosa ne pensate voi perché sono molto curioso io vi abbraccio vi ringrazio grazie e noi ci vediamo al prossimo bui vlog ciao a tutti